Benvenuti, questo è il quartiere generale dell'ICFF, proprio dove stiamo preparando l'edizione 2016 dell'Italian Contemporary Film Festival. Sarà un'edizione straordinaria, l'anno scorso abbiamo avuto 27.000 spettatori, beh questa sarà un'edizione che punteremo ancora più in alto, ci saranno gli ospiti dall'Italia, le star internazionali, ci saranno tantissimi film, una trentina addirittura, quasi tutti italiani con sottotitoli in inglese. Ci saranno le due grandi feste, una sarà fatta a Roy Thompson Hall, la serata d'apertura, e l'altra a Ritz Carton. Addirittura per queste due feste si possono già acquistare i biglietti a un prezzo scontatissimo, potete andare sul sito dell'ICFF che è www.icff.ca e lì potete acquistare a un prezzo, credo che sia addirittura la metà del prezzo poi che sarà il prezzo finale. Potete comprare addirittura i biglietti già da adesso, non abbiamo finalizzato il programma, ma potete prendere già i biglietti e scegliere più avanti i titoli che andrete a vedere. Vi annuncio solamente un titolo che si intitola Papa Francesco ed è La vita proprio del nostro Papa. È una vita analizzata da un regista importantissimo che è Daliane Lucchetti, che è andato poi a guardare da vicino tutti i momenti di questa vita di questo grande Papa. Questo film sarà ovviamente a giugno dal festival, dal giugno 9 al 17, una decina di giorni di appuntamenti e ovviamente vi daremo più dettagli più avanti. Ma iniziate a comprare i biglietti perché veramente è un grande affare.